buongiorno a tutti allora 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 inizia la nottatona del gigione per i video mattutini che vedrete al mattino vedrete nella mattinata di mercoledì mercoledì siamo no martedì 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 ma è già notte però è martedì è martedì quindi vediamo di che cosa parlano le news perché abbiamo news un po' animalesche perché parleremo di un capodoglio poi parleremo di un film di un film che è uscito su apple lo scorso 9 dicembre con will smith che film sarà che film sarà poi parleremo di un libro che riguarda il lago il titolo è come profondo il lago un libro interessante di cui vi voglio dare un po' una cosa generale diciamo e poi parleremo di un micio un micio miau un micio miau che ha combinato una cosa il micio miau ma partiamo con questo maschio di capodoglio cos'è successo a questo maschio di capodoglio di circa 14 metri che è morto dopo atroci sofferenze a causa di un ammasso di attrezzi da pesca nello stomaco un gigadentesco capodoglio maschio è stato scoperto su una spiaggia canadese morta a causa dell'ingestione di un enorme massa di attrezzatura da pesca scoperti da un team di 15 esperti giunti sul luogo gli attrezzi sono stati scoperti sotto forma di un ammasso in forme di circa un metro e dal peso di oltre 150 chili che impediva all'animale di ingurgitare qualsiasi cibo in pratica il capodoglio è morto per fame dopo vari giorni di sofferenza e in seguito allo spiaggiamento a notare il cetaceo ancora in vita sono stati alcuni abitanti del posto giunti sul posto i veterinari i volontari della marina animal response society e i biologi marini non hanno potuto far nulla per salvarlo la tragedia avvenuta sulla costa atlantica dell'isola del capo bretone sull'oceano atlantico a far sospettare le cause della morte dell'esemplare sono state le sue condizioni fisiche visibilmente denutrito nonostante si aspettassero qualcosa del genere gli esperti sono rimasti sconvolti quando hanno aperto lo stomaco dell'animale scoprendo la grande quantità di oggetti tutti erano scioccati per l'enorme quantità di attrezzi da pesca scoperte nel corpo del cetaceo ha spiegato rammaricata la dottoressa tonia wimmer direttrice della mars della marine animal response society e purtroppo queste maledette reti da pesca eccetera eccetera poi loro cosa fanno aprono la bocca per prendere il planton o altri pesci magari nello stesso punto dove loro hanno visto il branco di pesci hanno gettato le reti eccetera eccetera cosa succede il capodoglio apre la bocca si mangia pesci rete tutto quanto si tira giù tutto manda giù tutto e poi dopo la rete resta di bloccata già ce ne sono pochi perché poi malgrado dicano non bisognerebbe cacciare capodoglio eccetera eccetera sono animali in via di estinzione ci sono determinati nazioni o paesi che se ne fottono altamente perché loro il capodoglio gli serve per vari motivi vabbè sorvoliamo su questo fatto brutto 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 e andiamo avanti parliamo di cinema cinema televisione streaming quello che volete perché il 9 dicembre è depuntato su apple tv e c'è anche apple tv emancipation oltre la libertà film diretto da antoine fucco e con protagonista will smith ne panni di un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno alla sua fede incontrollabile e all'amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della louisiana alla ricerca della libertà per l'attore si tratta del primo film dopo lo schiaffo dato a chris rock sul palco degli oscar 2022 proprio per questo motivo la domanda sorge spontanea le persone lo vedranno oppure no ecco le parole di will smith allora queste sono le parole di will smith sia su emancipation il film sia sullo schiaffo agli oscar del 2022 e ha detto capisco completamente se qualcuno non è pronto a vedermi lo rispetto assolutamente rispetto il fatto che non siano non siano pronti ha esordito l'attore durante una recente intervista per muovere il film la mia più grande preoccupazione riguarda il mio team antoine ha fatto quello che penso quello che penso sia la sua opera più grandiosa dell'intera carriera l'intero team ha realizzato uno dei lavori migliori delle loro carriere e la mia speranza più profonda è che le mie azioni non penalizzano il mio team non penalizzino il mio team a questo punto è ciò su cui sto lavorando spero che il materiale il potere di emancipation e la storia senza tempo e che il bene che può emergere dal progetto possano aprire i cuori delle persone almeno per spingerle a vederlo e a riconoscere e sostenere gli incredibili artisti coinvolti in questo film emancipation oltre la libertà è ispirato alle foto della schiena di wippet peter peter il fustigato scattate durante una visita medica dell'esercito dell'unione e pubblicata nel 1863 su harper's weekly in particolare una delle immagini note come la schiena flagellata the scorched back che mostra la schiena nuda di peter completamente ricoperta da cicatrici frutto di tutte le frustate ricevute dai suoi schiavisti e che contribuì alla crescente opposizione pubblica alla schiavitù siamo nel 1863 ricordiamolo quindi siamo in piena guerra civile americana poi qualcuno ha detto che era un modo per far guadagnare di meno il sud a favore del nord che si era industrializzato e quindi tutte questioni politiche poi ci ha messo di mezzo anche la schiavitù per togliere la schiavitù eccetera 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 che tanto poi è rimasta al sud è rimasta invariata per altri cent'anni anche se non c'era più vabbè lasciamo perdere anche questa questione qua che ancora adesso è motivo di liti e quant'altro e andiamo a parlare di questo libro perché la dominioni editori ha pubblicato come profondo il lago di un maurizio sangalli autore formatosi nell'ambiente della comicità milanese con una lunga esperienza nell'ambito della scrittura e la regia televisiva il giallo di sangalli si distingue per l'accostamento dell'elemento comico alla densità filosofica dal del punto di vista l'atmosfera del romanzo ricorda fin come crimini e misfatti di wody allen siamo vicini anche allo sconvolgente umorismo nero dei fratelli cohen quindi un bel misto sembra interessante senza tradire mai il gusto degli amanti del genere il piacere del romanzo sta nella sapiente costruzione di una grande indagine composta dai diversi misteri che spuntano dai tanti angoli della narrazione si comincia con una ricerca apparentemente sgangherata e poco riuscita ma pagina dopo pagina tutto diventa pericoloso fitto inestricabile com'è profondo il lago ha l'ambizione di raccontare la como di oggi e la vita dentro l'agglomerato delle sue province poco rumoso morose ma tutt'altro che tranquille i nomi dei personaggi e luoghi battuti dai protagonisti sono descritti con un'accuratezza eccezionale molti anche rimandi ai fatti di cronaca nera accaduti negli ultimi anni nei dintorni del lago di como ma andiamo a vedere la trama perché è questo che volete sapere allora gianni molteni il commissario col cognome più comune a como un mattino ad ottobre si ritrova davanti a dei resti umani rinvenuti sulla riva del lago accanto al tempio voltiano quindi siamo a como è il nuovo caso atteso da anni nella città dove non succede mai niente messo tra virgolette finalmente il disincantato molteni e il suo agente l'esuberante frigerio altro nome tipicamente comasco tornano in azione il primo con la sua mania per l'ordine votato alla ricerca della verità e della morale assoluta il secondo scusate anche il bronco di riace colpito da questo libro con la sua visione pratica e sbrigativa nei confronti di un mondo senza retropensieri ma l'aspirazione di molteni una volta cominciate le indagini naufraga ben presto alla scoperta di mille altri scheletri chiusi a chiave negli armadi di provincia rivelando un'umanità assurda ridicola angosciata e soprattutto insospettata allucinato di fronte alle escort del più famoso night club ticinese turmato dall'alienazione di casalinghe disperate allibito dallo squilibrio di artisti di frontiera bombaroli lacustri doganieri danzanti e soprattutto colleghi infidi e malfidati molteni di sorpresa in sorpresa in un crescendo di comicità e tragedia avrà la possibilità di fare nuova luce su una strage del passato e di confrontarsi finalmente con il suo mistero personale sommerso da tempo nelle profondità del suo inconscio come profondo il lago è già disponibile sul sito di dominioni editori ed è in libreria dal 29 novembre scorso tanto per farvelo sapere costa 20 euro quindi se avete 20 euro che vi piace leggere e vi ha attirato la mia descrizione presa da qui como che come sempre mi regala gioie anche qui como mentre la cosa prima su will smith cinematogra.it e il primissimo articolo che riguardava il capodoglio è da scienze e notizie concludiamo concludiamo avevo parlato di un micio micio miau e perché c'è questo micio miau fine novembre serata del fine novembre c'è un gattino su un albero in viale giulio cesare a como un'intera notte al freddo sull'albero il piccolo micio che non si lascia salvare e anche il bronco di riace c'è rimasto male per il micio è rimasto un'intera notte al freddo sul ramo di un albero che si erge nel bel mezzo di una rotatoria il suo maglio miagolio non è passato inosservato un vero e proprio lamento che ha attirato l'attenzione di diversi passanti che hanno provato a convincerlo a scendere ma nulla da fare quando all'indomani qualcuno ha allertato i vigili del fuoco il gattino era ancora vivo ma anziché farsi salvare si era impicato ancora più in alto il cucciolo si trova tuttora no spero di no perché ormai siamo a gennaio sull'albero della rotatoria di viale giulio cesare a como vicino a dove inizia via leoni i pompieri nel pomeriggio del 28 novembre hanno cercato di recuperarlo ma il piccolo infridolito animale è fuggito dimostrando di avere ancora energia di non essere ancora del tutto stremato la speranza è che si decida a scendere da solo io ho provato a vedere se c'erano ancora notizie sul micio ma c'erano altre notizie su altri gatti che sono rimasti sull'albero addirittura una notizia del febbraio del 2021 addirittura o febbraio 2022 adesso non ricordo mi sembra se fosse 2021 con tutto quello che è successo perché alla fine per prenderlo ci hanno dovuto pensare i volontari di un gattile che hanno dovuto prenotare diciamo così una scala di quelle apposta per i traslochi eccetera per poterlo recuperare portarlo nel gattile perché i vigili hanno guardato hanno detto è troppo in alto eccetera che s'arrangi scenderà da solo nonostante abbiano allertato i vigili eccetera eccetera questo gatto è rimasto tre quattro giorni su quest'albero se non ero a roma però questa è avvenuta a roma e c'erano altri episodi di gatti sull'albero vabbè lasciamo perdere ricordo il mio amico che fece il militare nei pompieri e si era fatto fare il bigliettino da visita pompiere in caso di gatto sull'albero contattatemi potevano chiamare lui vabbè a parte gli scherzi concludiamo qua la questione news del gigione per il momento adesso andrò a farvi le call news vi avviso che adesso non so se saranno call news o news ma ci sono i prossimi video riguarderanno la serie mercoledì quindi penso sia una news si dovrebbe essere una news e anche tim barton e anche quella è una news ma è una news che può andare bene sempre perché parleremo della filmografia di tim barton dal dall'inizio fino ad oggi come si è evoluto eccetera eccetera ringraziando sempre cinematograph.it che mi dà le libidi saranno dei video che faremo nei prossimi giorni ma vi avviso così almeno lo sapete ciao ciao